Come dicevamo all'inizio del nostro programma, questa mattina torniamo a parlare di sinodo perché nei giorni scorsi è stata presentata l'instrumentum laboris, che è il documento che racchiude un po' le istanze che sono emerse nel corso delle varie assemblee continentali che hanno coinvolto le diocesi, le conferenze episcopali, i vari movimenti in vista della seconda fase dell'assemblea che è prevista nel prossimo mese di ottobre. Questa mattina, sperando che il collegamento ci aiuti, abbiamo con noi in diretta Don Salvatore Miscio che è il referente della diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo per il sinodo che stiamo vivendo e celebrando. Buongiorno Don Salvatore e bentrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno Leonardo, mi senti? Perfetto, allora la tecnologia ci aiuta, sento un leggerissimo eco in studio, non so se la regia può provare a risolvere, però nel frattempo noi possiamo proseguire, ti vediamo e ti sentiamo forte e chiaro. Allora Don Salvatore, l'instrumentum laboris, abbiamo detto questo documento che è stato presentato in conferenza stampa pochi giorni fa, che porta ovviamente anche il sigillo, potremmo definire così, di Papa Francesco perché ovviamente prima della sua approvazione è stato sottoposto all'attenzione del Pontefice. Vuoi un po' riassumerci quelli che sono i temi contenuti all'interno di questo documento? Ok, allora innanzitutto è il titolo interessante perché di per sé ricalca un po' quello che, come dire, il percorso, il titolo che il percorso ha avuto già dall'inizio per una chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione. Però ai più attenti non sfuggirà in verità che c'è stata un cambio dell'ordine delle parole, perché inizialmente, ricorderete tutti, il documento preparatorio portava il titolo di comunione, partecipazione e missione e invece è stato cambiato l'ordine. Cioè hanno affiancato i termini comunione e missione e messo in terza battuta la parola partecipazione. Quindi già rispetto al titolo, il documento conserva il titolo diciamo solito, però all'interno del documento poi troviamo questo cambio di prospettiva. Perché? Perché ci si è accorti che le parole comunione e missione non possono essere mai divise. Mai pensare a una comunione come un lavorio interno alla comunità che poi genera qualcosa da vivere all'esterno. Ma in verità è già la missione stessa che deve conformare la comunione interna delle comunità e la comunione stessa interna che deve dare lo stile poi della missione. E dunque poi in terza battuta, ma sempre collegata tra di loro, vanno analizzate le modalità di partecipazione sia alla comunione che alla missione da parte di tutti i battezzati. Allora questo sinodo potremmo dire, Don Salvatore, è una novità assoluta nella sua organizzazione ma anche diciamo nel suo svolgimento perché è un sinodo, un cantiere aperto, ecco per riprendere un po' quella che è la metafora utilizzata dalla conferenza episcopale italiana che ha lavorato, sta lavorando, continuerà a lavorare in vista della fase di ottobre che poi vedrà riunite in assemblea generale i vescovi e non solo in Vaticano. Vorrei chiederti allora l'esperienza italiana e poi anche nello specifico della chiesa di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, come si sta evolvendo? Da dove siamo partiti e dove stiamo andando? La fase italiana, cioè il percorso sinodale delle chiese che sono in Italia prevede un calentario un po' differente rispetto a quello universale. Abbiamo appena concluso i due anni della fase cosiddetta narrativa, una fase imperniata soprattutto sull'ascolto, l'ascolto che in tutte le chiese locali è stato strutturato a livello parrocchiale, a livello di comunità religiosa, a livello di aggregazioni laicali e che ha generato un ascolto importante, un ascolto che nel suo primo anno ha a sua volta generato l'idea dei cantieri. I cantieri non sono altro che un modo di ascoltare la realtà tutta, però concentrandoci su alcune questioni in modo particolare. Per cui adesso siamo alla fine di questo secondo anno e tutte le diocesi italiane entro il 15 giugno hanno mandato al Comitato nazionale le loro sintesi. Questo ha generato anche nella nostra diocesi, come presumo in tutte le diocesi, un inventarsi tanti modi per ascoltare tutti e mettere tutti nelle condizioni in qualche maniera di partecipare a questo dialogo, a questo confronto, a questi colloqui, un po' così come amava dire Paolo VI in Ecclesiam Suam, quando diceva la chiesa è colloquio. E quindi per dire che grazie a questa esperienza sinodale stiamo riscoprendo non solo la bellezza dell'ascoltarci tutti, non solo la bellezza di mettere tutti nelle condizioni di partecipare, ma renderci conto anche che non esiste una reale esperienza spirituale, cioè di ascolto dello spirito, se non creiamo innanzitutto le condizioni dell'ascolto gli uni gli altri. Ed è importante, l'anno scorso non so se ricordi, sì credo in questi giorni qui parlavamo della chiusura della prima fase, proprio in questo studio tu eri presente, oggi ovviamente sei collegato tramite Skype, parlavamo di questo ingranare un po' ecco difficoltoso di questo meccanismo del sinodo che ovviamente è un esercizio di stile nuovo potremmo dire così rispetto a quello a cui le nostre comunità, le diocesi varie in tutta Italia non solo erano abituate. Tu hai notato un cambio di paradigma da questo punto di vista, il metodo sinodale comincia ad entrare un po' nel tessuto delle comunità oppure si assiste ancora a qualche forma di, non voglio definirlo l'assismo, ma comunque di resistenza? Allora nel confronto che abbiamo avuto con tutti i referenti diocesani a livello nazionale è emerso come un ritornello comune la bellezza di questo percorso assieme all'emergere delle difficoltà, delle resistenze, quindi credo che siamo di fronte a delle caratteristiche normali e che non verranno meno lungo il cammino, però più cresce la capacità di dialogare, di avere anche un vocabolario comune, di avere una metodologia comune, più vengono superate facilmente le difficoltà o meglio si guarda le stesse difficoltà non più come degli impedimenti ma come delle opportunità. Lo stesso instrumentum laboris che è presente, che è stato pubblicato appunto ieri ma che porta la data di firma del 29 maggio, vuol dire del lunedì subito dopo la Pentecoste nel quale giorno da qualche anno festeggiamo Maria Madre della Chiesa, in questo documento spesso ritorna alla questione delle resistenze, delle difficoltà, dei limiti, della vulnerabilità, non più guardati come un problema da superare ma come momenti critici che aprono altre questioni, altre domande, che ci interrogano, che ci aiutano a fare discernimento, anzi il discernimento è più reale quanto tiene conto delle difficoltà, dei limiti e anche delle incomprensioni eventualmente. L'ultima domanda Don Salvatore, prima di lasciarti ai tuoi impegni, alla tua giornata, l'instrumentum laboris come ci viene descritto è un documento abbastanza lungo che ovviamente tutti possono leggere andando sul portale vatican.va e ovviamente scoprire i vari punti, noi però per chiudere vorrei sottolineare questa divisione in due parti, ecco la sezione A che è intitolata per una chiesa sinodale che raccoglie i frutti e la rilettura del cammino percorso e poi la sezione B che è un strumento diciamo più pratico, ecco potrebbe essere questa la definizione che potremmo dare in maniera tale che attraverso la risposta ad alcune domande si possa in qualche maniera sottoporre al discernimento dell'assemblea che si terrà ad ottobre quelle che sono le risposte che sono pervenute. Secondo te quale tipo di risposta ci sarà da questo punto di vista? Perché sono tanti gli interrogativi presenti e che sono di strettissima attualità non solo per quanto riguarda la questione della vita della chiesa ma anche la società civile. La prima cosa interessante che noto è che finalmente in un documento che di per sé prima abbozzava già quello che poi sarebbe stato il documento finale dell'assemblea sinodale ci sono molte più domande che contenuti, che risposte, il che vuol dire che la sinodalità ci restituisce il fermento, la vivacità di una chiesa che non ha paura di sostare sulle proprie domande. Non ha paura innanzitutto di condividere le domande perché le domande più che rassicurare stimolano la creatività, stimolano la ricerca. E quindi anche questa prima sessione dell'assemblea straordinaria dell'assemblea generale dei vescovi è soltanto una prima sessione, poi rimanda alla seconda sessione che avverrà nel 2024. Infatti l'obiettivo di questa prima sessione è fare proprie queste domande, cominciare a focalizzare alcune risposte ma le risposte hanno l'obiettivo di concentrare ancora di più l'attenzione su quelle che sono questioni emergenti rispetto alle quali poi si chiederà ai teologi, ai canonisti, ai pastoralisti di riflettere. Cioè per dire sono quelle questioni che sentiamo urgenti, grosse e che Giovanni XXIII chiamerebbe i segni dei tempi, sui quali si chiede a tutta la Chiesa, con tutti gli strumenti che ha a disposizione, di riflettere. In maniera tale che l'assise sinodale che si avrà nel 2024 potrà formulare alcune questioni grosse dal punto di vista delle scelte ecclesiali, però alla luce anche di approfondimenti che sono necessari. Bene, allora Don Salvatore, l'espressione cantiere aperto credo sia, come abbiamo detto all'inizio, quella che più sintetizza questo cammino che si sta compiendo. E allora io ti auguro buon cammino perché ovviamente saremo tutti proiettati poi verso l'assemblea di ottobre per provare insomma anche a capire cosa succederà in futuro. Grazie per essere stato con noi, grazie di cuore Don Salvo, un abbraccio. Grazie Leonardo, buona giornata a tutti. Ciao, ciao, grazie Don Salvatore, lo salutiamo di cuore.